che sulle famiglie. Nel frattempo torna a salire l'occupazione in Italia, a settembre sono oltre 46.000 lavoratori in più rispetto al mese precedente, ma i giovani continuano ad avere difficoltà nel trovare lavoro. Leonardo Possati. Dopo due mesi in negativo tornano in positivo i numeri dell'occupazione, a settembre infatti abbiamo 46.000 occupati in più con un aumento minimo rispetto ad agosto, mentre se prendiamo come riferimento settembre 2021 e settembre 2022 la crescita dell'1,4%, abbiamo 316.000 occupati in più. Il trend positivo si registra in particolar modo tra i dipendenti a tempo indeterminato che crescono di 205.000 unità nel confronto annuo e di 82.000 persone nel mese precedente. E così, secondo le rilevazioni dell'Istituto di Statistica, il tasso di occupazione totale sale al 60,2%. Preoccupa la situazione dei giovani. Se prendiamo come riferimento il tasso di disoccupazione totale, vediamo che rimane al 7,9%, di poco sopra la media europea, mentre quella giovanile, ovvero le persone tra i 15 e i 24 anni, sale al 23,7%. Troppa e inaccettabile per un paese che dice di voler guardare al futuro. L'aumento dell'occupazione si riscontra soprattutto in settori come quello degli artigiani e delle piccole imprese, secondo l'osservatorio lavoro della Confederazione Nazionale Artigianato. A settembre sono aumentate del 2,7% le assunzioni. Tra i settori che tuttora soffrono c'è quello del turismo e della ristorazione, dove si fatica a reperire il personale. Nei prossimi mesi sono previsti almeno 60.000 posti vacanti.